La prima volta a Bari di Sergio Mattarella in qualità di Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, al suo arrivo alle 10.30, è stato accolto a Palazzo di Governo dal Prefetto Carmela Pagano per poi spostarsi al Petruzzelli per l'inaugurazione del Congresso. A dargli il benvenuto il Presidente della Regione Emiliano e il Sindaco di Bari Antonio De Caro alla presenza di autorità civili e militari, oltre a numerose scolaresche. Fra gli interventi che si sono susseguiti sul palco del Politeama barese, quello del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Bari, Anna Maria Tosto, che ha fatto riferimento alla crisi industriale, in particolare a quella dell'Ilva di Taranto, e ai problemi che si pongono davanti ai giudici per la tutela dell'occupazione, della salute e dell'ambiente. Riproposto anche il delicato tema dell'equilibrio nei rapporti tra i poteri dello Stato, ma il Procuratore Generale ha parlato anche del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori di morti bianche e del lavoro nero in una regione con un triste primato di infortuni sul lavoro. Il Governatore Michele Emiliano ha invitato il Parlamento ad agire con ogni mezzo per garantire alla magistratura, alle forze dell'ordine, tutti gli strumenti idonei per contrastare mafia e corruzione. Il cordone di sicurezza, predisposto nell'area del Petruzzelli e di alcune zone interdette alla circolazione, ha creato conseguenze alla viabilità. Il Comune ha predisposto un piano, con l'elenco delle strade chiuse al traffico, le modifiche al percorso degli autobus e i divieti di parcheggio, divieti che permarranno fino al termine della manifestazione.